Si reca in ospedale a trovare sua madre e al ritorno trova l'abitazione visitata dei ladri. Amara sorpresa per Lorenzo Raffa, dipendente comunale di Savignano Irpino, residente a pochi passi dalla chiesa madre nel cuore del paese. L'uomo si era assentato insieme alla moglie, lasciando come sempre il suo dalmata in casa. Al loro rientro, la porta aperta e all'interno tutto a soccuadro. I malviventi hanno puntato dritto alla camera da letto, rovistando ovunque per impossessarsi di oggetti preziosi. Hanno aperto la pala finestra con un cacciavite e sono saliti all'interno dell'abitazione e hanno fatto razzie di tutto, ore e orologi. E poi secondo me sono uscite per la porta qui, perché noi qua abbiamo due porte, la porta in PVC esterna e la porta in legno da dentro. E quindi sono uscite e sono andate via. Io penso un lavoro fatto in un po' di minuti e basta. L'arco di due ore che vi eravate assentati? Noi ci siamo assentati dalle ore 18 alle ore 20 e 30 perché siamo andati in ospedale a trovare la nostra mamma che era malata. Io penso che il lavoro sia stato fatto intorno alle 7. Alle 7 sono entrati di là, direttamente nella camera da letto e hanno aperto tutti gli armadi dei gomò, comodini, insomma. E hanno fatto un po' di razzie, insomma hanno rubato un po' di ore a mia moglie e tre orologi e basta. A quanto monta il bottino? Ma penso all'incirco un paio di 2 mila euro più o meno. Analogo episodio in via Edoardo De Filippo lungo la strada che porta allo scalo. Su entrambi i casi stanno indagando i carabinieri, episodi che si stanno verificando con troppa frequenza a Savignano e Orpino. Il sindaco Fabio Della Marra non nasconde la preoccupazione, invitando la popolazione alla massima collaborazione. Non sono episodi nuovi. Io naturalmente da primo cittadino rimango fortemente amareggiato quando vengo a conoscenza di episodi del genere. Però dobbiamo essere anche obiettivi e dire che purtroppo i furti ciclicamente sono episodi che si sono sempre verificati e si verificheranno sempre. Io direi da primo cittadino una cosa importante è quello di sensibilizzare la popolazione. Perché spesso si sottovaluta il fatto di poter in qualche modo segnalare la presenza di persone non conosciute. In città sarebbe quasi improponibile, ma nelle piccole realtà come le nostre una collaborazione fattiva renderebbe sicuramente il territorio più controllabile. Del resto le forze di polizia fanno il possibile e voglio dire poi la compagnia di Ariano ne ha dato testimonianza negli anni precedenti con delle operazioni di rilievo, dalle associazioni a delinquere per le rapine a finire anche ai furti di pannocchie. Quindi voglio dire il territorio comunque è controllato, ma di fatto è necessario che i cittadini siano i primi vigilanti del proprio territorio. Quindi chiamare sempre il 112, il 113, perché no anche il sindaco, perché comunque resta la figura quale autorità locale di pubblica sicurezza. E quindi stringerci maggiormente in questa azione di controllo. Perché poi, diciamocela tutta, non c'è videosorveglianza che tiene, anche se le prefetture insistono nel sapere se esistono meno strutture di videosorveglianza. Ma la videosorveglianza ha un peso che è comunque relativo, perché poi ci vorrebbero comunque delle tecnologie talmente avanzate da poter servire poi le forze di polizia.